La Puglia è tra le primissime regioni in Italia ad avviare il processo di snellimento amministrativo per le imprese agricole. Lo fa potenziando le attività svolte dai centri di assistenza agricola, ICA, con l'obiettivo di semplificare le procedure a carico delle imprese agricole. I dettagli sono stati illustrati oggi nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso l'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia a Bari alla presenza dell'assessore Dario Stefano e delle organizzazioni agricole. La Giunta regionale ha approvato la delibera con cui individui procedimenti amministrativi per i quali ICA, in possesso dei requisiti previsti della normativa, potranno svolgere istruttoria a supporto degli enti competenti. Due dunque, gli obiettivi del provvedimento, la semplificazione amministrativa e lo snellimento burocratico per le pratiche amministrative nelle imprese agricole. Fermarestando la competenza delle singole amministrazioni nei processi autorizzativi, si prevede la facoltà per i soggetti operanti in agricoltura di utilizzare i CA per la presentazione delle istanze relative ad alcuni procedimenti amministrativi. Questo potenziamento dei centri prevede inoltre un alleggerimento burocratico relativo non solo all'assessorato all'agricoltura, ma anche a quello dell'ambiente, dei lavori pubblici e della sanità. L'esigenza è quella di snellire, di praticare la strada dello snellimento di una burocrazia che molto spesso ingessa le attività delle imprese e che rende disallineati i tempi dell'impresa con quelli della pubblica amministrazione nella sua capacità di dare risposte. Siamo la prima regione d'Italia a farlo e lo facciamo su un impulso forte delle associazioni di categoria che hanno condiviso e gioiscono con noi per questo risultato, ma lo facciamo anche forti di un'idea che abbiamo di amministrazione pubblica che deve concentrarsi sempre di più sulla programmazione, sull'indirizzo e sul controllo e non invece sui procedimenti istruttori che bene, che vengano decentrati e snelliti il più possibile.